È un'iniziativa promossa da Il Pesaro, che è una rivista pesarese che si occupa di attualità, un po' di informazione a tutto campo, ma poi è anche una riflessione che nelle settimane, diciamo anche in corso del lockdown, ma anche e soprattutto un po' alla ripresa con Mauro Rossi, insomma ci siamo confrontati sulla volontà, sull'esigenza di mettere un punto nuovo sull'informazione e sulla comunicazione, in particolar modo digitale, dopo quello che avevamo vissuto e dopo ovviamente anche una riflessione su quello che è l'importanza del peso della comunicazione, soprattutto via web, i filtri che vengono applicati e soprattutto anche quelli che sono, diciamo, l'utilizzo degli stessi, da parte, non è un caso che nel manifesto si fa riferimento, insomma, alla comunicazione dei regimi totalitari, ora il tema non è solo l'autoteletarismo, ma sono anche i regimi autoritari o gli stati, insomma, che utilizzano anche il web, Facebook e anche, diciamo, le maglie che questo permette per fare disinformazione, utilizzare anche l'informazione a volte per orientare le scelte politiche, ma soprattutto i comportamenti. Hanno risposto alla chiamata a questo primo festival delle persone di altissimo livello. La prima parte è quella dedicata alla comunicazione all'interno del processo penale. Abbiamo il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimidi, il dottor Davide Ercolani, che farà con delle slide delle immagini, insomma, immagini anche forti, perché fanno parte del suo lavoro, del processo, quindi, insomma, poi lo spiegheremo magari direttamente la sera, e poi la seconda parte che introdurro io, poi la seconda parte con Paolo Ercolani, che è il filosofo, quindi lui ha un tema che a Pesolo molti lo conoscono, perché ha fatto molti eventi, ma è filosofo e insegna all'Università di Urbino con il tema l'allevamento del greggio digitale, e già questo, insomma, dà un anticipo di quello che è il suo intervento. Seguirà insieme a lui il dottor Lucio Zanche, che è un docente all'Università di Bologna, su un tema dedicato al mondo del lavoro e dei giovani, legato al social e alla comunicazione. Infine il dottor Giovanni Bocciartieri, che è direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, sempre a Urbino, che invece parlerà del momento in cui abbiamo vissuto nel lockdown, chiuso in casa, i social, cosa è successo, lui è un sociologo, quindi questa parte insieme a Silvia Sinibaldi, che è una giornalista del capo servizio del Corriere Adriatico, sarà la parte, diciamo, dialogante tra i tre relatori. E la prima parte invece è quella, diciamo, separa in due parti, facciamo. Se per caso non è possibile partecipare alla serata, che comunque conviene telefonare, perché i posti sono pochi a causa dei distanziamenti, si può seguire su YouTube oppure sulla pagina Facebook del Pesaro. Quindi eventualmente, se uno è interessato, però quella sera non può, l'evento è molto importante, è di alto livello, però avremo pochi posti al Cinema Astra. Se qualcuno è interessato, è meglio che chiami, perché i tempi sono ristretti e gli spazi sono questi. Sabato 5 settembre a Pesaro, al Cinema Astra, alle 21.